ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come completare la sfida di wolverine della settimana ossia quella che richiede di localizzare il camion per il trasporto dei mutanti il camion si trova qui vedete in alto dove c'è il dominio doom qui non potete sbagliarvi anche perché si vede in bella mostra quindi dovete semplicemente atterrare qui a partire da domani pomeriggio quindi quando la sfida di wolverine è disponibile vi basterà atterrare qui vedete c'è il camion per il trasporto dei detenuti e mutanti che è anche aperto da oggi quindi dovete semplicemente arrivare qua e il gioco è fatto vi mostro di nuovo la posizione in alto qui dove c'è il dominio doom